Però è il momento che è finito l'alluvione e non li vedi più. La protezione civile si mette in mostra dal 7 al 14 maggio, da mattina a sera, al Parco Miralfiore di Pesaro. All'iniziativa, dal titolo La settimana della protezione civile, prenderanno parte 20 classi delle scuole elementari e medie. Studenti e non solo, nelle ore pomeridiane gli spazi saranno aperti per spiegare ai cittadini il piano di emergenza dei vari quartieri. Assessore, come nasce questo progetto? Nasce per riconoscere il grande lavoro che in questi ultimi due o tre anni i volontari di protezione civile hanno fatto per la nostra città e non solo, perché sono stati attivi non solo a Pesaro ma anche nei comuni intorno, nei quali sono stati chiamati per prestare il loro aiuto e dare la loro collaborazione. È un gruppo di 150 persone che prestano il loro servizio gratuitamente, perché dedicano tempo, energia e tolgono spazio a quelle che sono la loro passione, a loro famiglie per dare una mano a chi ha bisogno. Purtroppo nell'ultimo periodo ci sono state situazioni che hanno richiesto interventi costanti da parte dei volontari di protezione civile e dedicargli una settimana ci sembrava il giusto riconoscimento. In questa settimana ci sarà modo, oltre a far vedere il lavoro che è stato fatto, anche di presentarsi alla città e magari reclutare nuovi soggetti, soprattutto giovani, perché il segnale importante è quello di riuscire ad avere da parte dei giovani la sensibilità e la volontà di dare una mano a chi ha bisogno. Noi quando andiamo nella scuola vediamo questa mancanza o non conoscenza, perché si vedono solo quando siamo in intervento, invece vogliamo far capire cosa siamo prima di arrivare all'intervento, come si costruisce la protezione civile, cosa deve fare il volontario per la protezione civile per arrivare a dare quel contributo che poi diamo alla gente quando ha bisogno. Il programma prevede diversi laboratori per studenti, momenti di formazione e dimostrazione. Per spiegare le variazioni che compie, la protezione civile sarà presente al palco Miralfiore con gommoni e attrezzature per affronteggiare le diverse emergenze.